Si tratta di un discorso, di una testimonianza di Padre Arturo per il cinquantesimo della congregazione. Di nuovo buonasera a tutti e benvenuti, anzitutto grazie. La costruzione di questo monumento è voluta da Gietti Sallievi dell'Associazione Padre Arturo Donofrio. Abbiamo fatto una promessa che non vi annoieremo a un fiume di parole, quindi saremo brevissimi. Intanto chiediamo la presenza del Presidente dell'Associazione per un saluto, Dottore Pellegrino Campartelli. Buonasera e benvenuti. a questa bellissima serata che l'Associazione degli Ex Allievi di Padre Arturo Donofrio ha voluto, come dire, organizzare perché... Grazie. 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 Grazie.